E benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo video con Deadpool Scusate per un ultimo fail Però c'è stato questo problema All'audio E quindi Oggi cercherò di farmi perdonare Allora lasciate like, iscrivetevi al canale Oggi faremo una partita epica con Deadpool In cui cercheremo di prendere le sue pistole E veramente ragazzi Deadpool che skin Forse veramente la skin più bella del gioco Scrivetevi il voto della skin di Deadpool Se voi ce l'avete Oppure se non ce l'avete Ma credo che C'è praticamente il 99% della popolazione di Fortnite ce l'ha No forse un po' di meno Forse l'80-70% ce l'ha Il resto non ce l'ha Perché il passo ragazzi ce lo shoppano quasi tutti Ma sì, cioè dipende E quant'altro Via Con la partita Allora Non possiamo non andare allo yacht Allora Signor Deadpool Ehm Il signor Deadpool Ehm Ehm Ragazzi adesso andiamo Allo yacht Ehm Scusate Per quello che è successo nello scorso video Però Oggi proviamo a recuperare Ciò Ehm Lasciate Un like Iscrivetevi al canale Cerchiamo Sordissimamente Deadpool Che cosa guardate Sta diventando Deadpool Questa statua GG Ci sta qualcuno Sento una migliade di passi Ragazzi Porca Ah che vanno colpito Questo non è palesemente uno scagnozzo Ma andrà bene Allora raga Ecco Deadpool Vediamo che si fermi Ok Atterrato E abbiamo Le pistole Queste hanno la pistola Porca Lasciatevi in pace Please Qui ci stava Gnascolo Munizioni delle pistole Grazie Vi danno Munizioni Andiamo sotto Con la chiave Dell'agenzia Allora Mi va a dare il respiro Di lì Ragazzi Voglio vivere anche una volta Per carità Chi ci stava Eh mi hanno itato Quindi travestiamo Ragazzi E via E via Forca! Forse è meglio non rischiare di morire e andarsene Sì, lo so che ho la chiave dello yokt Però, raga, mi devo andare a ritravestire Porca, che fastidio L'elicottero è ancora vivo Mi vado a ritravestire per la sedicesima volta E malalterato Malalterato Malalteralmente ero alzerato Ma andrà bene Qui tanto ho shieldini Quindi ce li beviamo Fammi entrare Vabbè Io senti spacco Cioè, che pizza Questi Le scansioni perse, ragazzi Fammelo aprire Fammi entrare Dai Come fa? Prendiamo anche questo I shieldini Non li prendiamo E andiamo avanti Usiamo dei deadpoolari Tan 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 Qui ci sta il camion, ragazzi Il camion dello slurp Qui ci sta anche il tiro No, e no E no E no, e no, e no Vabbè, io penso di salire proprio subito E vabbè, ragazzi Sono morto Vabbè, sì Da dietro Porca miseria Ragazzi Io spero che Questo breve video In cui proviamo Deadpool Vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Al prossimo video E E prepariamoci, dai Che voglio fare un'altra partita Bella Iscrivetevi anche al canale di Anche, anche, anche Al canale di Pai Le zavoli E Ciao Ciao a tutti